L'obiettivo di allungare la striscia di risultati utili consecutivi è centrato, l'Ancona però manca l'appuntamento con la vittoria, il Sant'Arcangelo strappa il pari e il Conero comincia a diventare un po' troppo insidioso per Bondi e compagni, che invece volano in trasferta. Lo 0-0 finale è il frutto di una squadra, quella bianco-rossa, che tessa la trama fin dall'inizio ma non trova mai la giocata giusta per la finalizzazione, e l'altra, quella romagnola, che invece si è difesa strenuamente e con attenzione. Cornacchini sceglie il 4-4-2 con Cognini a supporto di Tavares e Parodi invece che Morbidelli, San Pietro e Di Ceglie ricamano nel mezzo la crescita dei Dorici certificata, sia nell'approccio sia nel palleggio, servono però 26 minuti prima di godersi un'occasione, Tavares crossa per l'inserimento di Parodi che di testa colpisce senza troppa forza e Nardi blocca sicuro. Al 32esimo il portoghese va alla conclusione ma trova ancora sulla sua strada il numero uno avversario. Il Sant'Arcangelo in attacco è qualcosa di sporadico, come il sinistro da lontano di Radoi al 34esimo, potente e in porta a Prea coi pugni, si rifugia in angolo. Supremazia più o meno sterile all'intervallo quella dell'Ancona, che subito dopo il rientro dagli spogliatoi viene scossa dallo scuotersi del palo colpito da Obeng, missile da fuori ad Aprea battuto e sono passati appena 50 secondi. All'undicesimo i romagnoli ancora pericolosi, Guidone incrocia dal limite, Aprea si distende e con la punta delle dita mette in corner. Da qui in poi sale in cattedra la formazione bianco-rossa, al 24esimo Tavares fa impazzire la difesa del Sant'Arcangelo, Cola è costretto a stenderlo ma è già ammonito, il secondo giallo gli costa l'espulsione. Sulla punizione che ne segue Nardi fa il miracolo sul sinistro angolato di Morbidelli. La squadra di Fraschetti si sistema, regge anche in 10 e controlla senza subire mai la pressione offensiva avversaria, tanto che l'ultima conclusione verso la porta di Nardi è un'altra punizione di Morbidelli poco prima del novantesimo. Palla fuori di poco e giù il sipario, all'Ancona può andar bene così, il filoto prosegue, la classifica si muove.